Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma ci sono code in uscita a Firenze Sud per lavori tra Barberino e Calenzano rallentamenti per materiali dispersi. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze rallentamenti tra Prato Est e Firenze Ovest. Sulla FIPILI code a tratti tra lastra a Signa e Scandici in direzione Firenze. Code in uscita a Scandici in direzione mare chiusa l'entrata di Livorno Stagno. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandici è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!